ok buonasera a tutti buonasera grazie di essere venuti chi è qui e chi è in collegamento da casa è il primo anno che l'almanacco riesce a organizzare per l'almanacco delle presentazioni di persona all'inizio un po' per io ce le ho inizialmente per per nostra incompetenza e poi per per la pandemia non eravamo finora mai riusciti siamo dovuti arrivare al quarto numero per organizzare un po' di presentazioni in persona appunto io introdurrò brevemente questa questa serata e poi lascio la la parola ehm ai relatori e Andrea Moresco che il curatore della dell'almanacco volevo semplicemente brevemente raccontare la storia del dell'almanacco dire un po' il senso di di questo progetto l'almanacco nasce in relazione a un seminario che abbiamo iniziato a a fare a a Pisa la scuola normale superiore tra il duemiladiciassette e il duemiladiciotto ehm in relazione alla cattedra in collaborazione con la cattedra di filosofia teoretica allora di di Roberto Esposito e ehm era un seminario di dottorandi studenti e ricercatori che si trovavano ogni due settimane per eh con questo problema comune di ehm insomma ragionare intorno alla relazione fra politica e eh filosofia fra teoria e politica e ehm in particolar modo il primo anno il problema era ehm ci era sembrato eh quello di una critica alle teorie politiche dell'immanenza politica ovvero ehm una critica diciamo così alle teorie che ci sembrava che eh fosse andassero per la per la maggiore del diciamo così dell'autonomia del del sociale e per cui eh abbiamo iniziato questo questo percorso insieme criticando da una parte la la categoria di immanenza e l'autonomia del sociale e al 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 contempo dicendo che però era una strada sbarrata quella che ehm mirava alla ehm riproposizione di un'autonomia del politico al contempo no? E per cui cercavamo di criticare insieme autonomia del politico e autonomia del sociale e questa critica era anche la ehm la speranza di trovare una terza via tra queste tra questi due poli e mh alla fine di que di quell'anno ci siamo abbiamo guardato il nostro lavoro abbiamo guardato agli inviti e i seminari che abbiamo fatto abbiamo pensato di eh tradurre tutto in un in un volume che si sarebbe proposto ogni anno. Il primo è stato per cui questa crisi dell'immanenza e eh il secondo volume del duemila e di ciò del del questo era del duemila e diciannove il secondo anno abbiamo continuato su su questa strada cercando di andare di percorrere la terza via che avevamo ehm iniziato a intravedere il primo anno e ehm ed è così che è nato il secondo volume che si intitola istituzione in quanto con questa categoria abbiamo cercato di ehm definire appunto questa eh terza via possibile al di là delle autonomie del politico e del sociale. Il progetto e il problema è dunque rimasto sempre lo stesso. Potremmo dire che è lo stesso visto e analizzato da ehm prospettive differenti. Eh con eh Respubblica il terzo eh volume del duemila e ventuno ci siamo infatti domandati sul funzionamento della dinamica istituente cioè sullo funzionamento interno della dinamica dell'istituzione e in particolar modo ci siamo ehm concentrati sul concetto di conflitto sul rapporto per cui fra conflitto e forma come eh quale fosse il rapporto che ehm dal conflitto creasse l'istituzione. Ehm e ancora era credo il un modo di guardare allo stesso problema, allo stesso problema del primo anno da da un'altra prospettiva e così si può dire che è questo quarto numero del dell'almanacco che continua e eh ripercorre il il seminario che abbiamo eh condotto questo quest'anno insieme a Pisa e eh questo numero dedicato all'evento ehm è ancora un altro modo per indagare continuità e discontinuità. La possibilità di da del darsi della rottura come dicono Andrea e Rita i due curatori nella prefazione la possibilità di concepire la rottura su un piano al di là dell'evenemenziale puro ma ehm collegato alla alla continuità del del processo storico anche per cui è un altro modo per parlare di istituzione per parlare di conflitto. Ehm brevemente il il poi concludo il l'almanacco è un cantiere è un cantiere aperto ehm che che appunto noi portiamo avanti ormai da da qualche anno continuando a domandarci intorno a a questo nucleo centrale quest'anno stiamo già lavorando al al prossimo numero che sarà ancora eh dedicato al al problema della fondazione per cui ci spostiamo di di trecentosessanta gradi rispetto all'evento ma guardiamo sempre allo stesso nucleo teorico e e anche nel nel modo in cui è fatto l'almanacco credo è nel modo in cui negli anni è anche cambiato con tentativi di ehm di 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 strutturazione diversa tra la prima e la seconda parte si vede che eh è appunto un cantiere aperto un cantiere che credo abbia prodotto ma se sarà a voi dirlo questa sera abbia prodotto e produca delle 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 vie teoriche praticabile consuete e interessanti e che spero possa possa continuare anche per per i prossimi anni lascio la parola alla discussione e vi ringrazio ah perfetto sì sì eh come come preferite allora intanto grazie per avermi invitata a discutere di questo appunto quarto eh al manacco eh sull' evento provo a mettere lì delle cose un po' varie e forse a tratti un po' confuse eh perché poi sono in particolare appunto della sezione monografica sono molti saggi e che affrontano eh prospettive simili ma differenti all'interno di uno stesso discorso però da traiettorie che eh come diranno sia dei presupposti eh differenti che poi in qualche modo ovviamente eh degli esiti eh differenti se dovessi però dire provo a fare un po' una lettura complessiva ecco appunto in questo scusatemi se un po' eh confusa eh se dovessi dire eh quali sono alcuni dei problemi comuni che mi pare emergano appunto dai differenti saggi dalle differenti interpretazioni eh degli autori ehm il primo è sicuramente il rapporto tra soggetto ed evento provo a eh sintetizzarlo un po' così no? A partire da ehm quello che nel testo eh Balibar fa ritornando eh a Butler e alla non nuova sicuramente non non solo butleriana però eh circolarità tra la soggettività come presupposto e soggettività come prodotto della dinamica dell'evento cioè l'evento come il luogo in cui la soggettività in qualche modo si mostra e quindi viene prodotta ma l'evento anche come è impossibile da pensare senza una soggettività che lo incarna e lo ehm e lo produce a sua volta e in questo senso quello che diceva Mattia rispetto all'inizio di questa vicenda sulla critica alla eh autonomia del politico all'autonomia del sociale mi sembra che possa davvero stare qui dentro no? Su eh dove si costituisce poi eh questo soggetto con quali caratteristiche e soprattutto eh come possiamo pensare eh un soggetto comune usando eh proprio delle parole che Mattia usa eh nel testo che tipo di legami immaginiamo ehm di questo tipo di soggettività collettiva ecco ehm e su questo ognuno di noi credo per forza di cose gli risuonano delle cose rispetto a quelle che ha studiato leggendo questo eh tutti questi saggi a me tornava costantemente in mente lo slogan eh abusato, sussunto, risignificato in modi imprevisti eh del femminismo del personale politico eh perché credo che eh all'interno della dinamica tra critica dell'autonomia del politico e critica dell'autonomia del sociale la circolarità tra la dimensione personale e la dimensione politica cioè la possibilità di guardare al personale come politico non tanto nella ricerca di un prepolitico innocente eh generativo, immanente, autonomo, già politico ma di guardare politicamente a delle dimensioni che politiche immediatamente non appaiono e nel processo stesso di osservare politicamente quelle dimensioni in politiche o supposte in politiche della realtà sia un processo di soggettivazione che travalica l'evento e che in qualche modo presuppone cioè rende possibile eh l'evento. In questo ci sta l'altra eh questione che mi pare attraversare in maniera assolutamente un po' eh trasversale o forse di nuovo ce l'ho vista io eh i saggi cioè la dimensione ehm del ritorno all'origine della eh possibilità di ritornare all'origine o di rinunciare alla ritorna al ritorno all'origine nell'ottica di eh riuscire a pensare la la dico in due modi differenti o una fondazione che però parta radicalmente da una materia presente cioè una fondazione che non presuppone immediatamente una radicale novità eh che che segna una cesura, una frattura radicale rispetto a quello che è avvenuto prima oppure di nuovo la nello stesso sol con la dinamica della ripetizione come possibilità di novità e qui mi tornava di nuovo costantemente per fare dei riferimenti che nell'almanacco non ci sono che però a me forse eh sono serviti per leggerlo ecco eh tornava in mente un testo di Jack Alberstam che è stato tra l'altro recentemente tradotto in italiano che si intitola l'arte queer del fallimento eh in cui c'è eh che si apre proprio con la eh veramente celeberri ma eh citazione becchettiana di fallire di nuovo fallire meglio come eh possibilità anche per una politica che eh da un lato rinuncia eh alla possibilità di eh una radicale innovazione e dall'altro vede nell'apertura del fallimento una dimensione che ehm come dire magari non teniamo tantissimo in considerazione proprio una possibilità di soggettivazione e di soggettività che eh risignifica i processi eh politici e che ci riporta di nuovo in questa eh beh poi se eh si legge Alberstam è molto chiaro nel contatto con una cultura eh popolare una cultura eh veramente molto più che popolare è veramente pop eh da eh alla ricerca di Nemo eh a i film sulle damigelle eh mi rendo conto non proprio un genere frequentatissimo però la dimensione ehm di eh lavorare con i corpi che si hanno a disposizione e questa è un'altra parola no che in qualche modo ehm mi risuona cioè che che ruolo hanno i corpi i corpi singoli e i corpi collettivi la costruzione dei corpi all'interno di questa dimensione del politico del sociale e dell'evento in tutte queste e su questo l'altro eh elemento secondo me significativo è proprio la dimensione epistemologica che l'evento e la dimensione dell'evento ci consegnano di una possibile rottura epistemologica che però di nuovo e qui ritorno al personale politico al fallimento queer no è situata e incarnata in dei corpi che hanno fallito le norme precedenti e che proprio a partire da quel fallimento hanno la possibilità di immaginare qualcosa di nuovo quindi è radicata in una storia di fallimenti oppressioni ehm sfumature rispetto eh alle norme che a partire da quelle cercano di istituire nuove norme più vivibili o nessuna norma anche questo è però un eh un tema aperto e in questo senso eh mi mi sembra anche ehm rilevante ecco eh pensare alla eh relazione che emerge in qualche modo nelle riflessioni legate a Dewey per esempio eh della relazione tra eh evento ed ed educazione eh è possibile pensare a eh i processi educativi come parte di una dimensione politica ma non solo nel senso come dire molto classico di sono le leggi che educano gli esseri umani e trasformano eh la politica o sono le leggi che o so o è l'educazione che immagina eh la futura eh umanità ma attraverso un processo che permette e mh mi sembra significativo che nel proprio parlando di Dio i ritorni con forza la parola perturbante del perturbante dell'evento ehm che eh allo stesso tempo permette di eh come dire eh sciogliere l'illusione di una rottura assoluta torno su questo no che mi sembra poi l'altro elemento che attraversa tutti i saggi eh questa dimensione di rinunciare alla all'idea di una rottura assoluta che passa da rinunciare all'origine innocente rinunciare a un campo innocente prepolitico che si può recuperare e che quindi dal quale possiamo trarre delle indicazioni eh perfette sempre giuste ehm appunto innocenti rispetto alla dimensione del potere e invece pensare a una contaminazione costante che passa proprio dai rapporti di soggettivazione e che mette ehm in relazione la eh il potere e il rapporto con l'alterità no? L'evento con la dimensione anche di scontrarsi con delle alterità che non si immaginavano delle alterità impreviste no? Eh e che eh si mettono in discussione a vicenda cioè forse questo può essere una per me quantomeno una dimensione dell'evento che torno a dire permette poi di pensare alla politica e alla sfera del sociale del politico come eh profondamente connesse e allo stesso tempo profondamente autonome perché ci parlano di ambiti differenti che si specchiano ehm in qualche modo eh a vicenda in qualche modo appunto tornare provare a pensare a eh delle dimensioni che sono intimamente corporee e allo stesso tempo eh capaci di costruire delle forme di ehm produzione politica collettiva che non sono astrazioni che non sono pure semplice eh appunto astrazioni dai corpi ehm singoli e collettivi ma che sono e su questo l'altro elemento che ritorna ovviamente quello del conflitto che sono ehm in qualche modo una dimensione per citare eh Araway eh di mh simpoiesis cioè di fare insieme e questo anche se non ora la prima e la seconda parte di questo il manacco mi sembrano nettamente divise però c'è una questione su eh l'ambientalità il milieu la dimensione appunto della simpoiesi di queste forme di soggettivazione che mi sembra ritornare e che costituisce un nodo secondo me aperto di questa costante circolarità o triangolazione tra eventi politica soggetti che eh poi secondo me anche nei diversi saggi rimane aperta ma che rimane aperta se ne positivamente nel senso che eh viene di volta in volta colmata dalle situazioni di conflitto forse reale che esistono concrete e eh situate questa è l'altra parola che ritorna della situazione cioè della dell'occasione se volete eh che però mi piace di più ehm tradurre con situazione facendo di nuovo riferimento alla rottura epistemologica di un sapere situato no? Di eh una pratica politica che produce un sapere a partire dai soggetti e sui soggetti che l'agiscono che produce quindi una risignificazione del mondo eh in cui stiamo che non è eh evidentemente mai eh neutra. Mi fermo qui per adesso perché poi ho visto che siamo tra noi. Esatto. Poi c'è una seconda parte. Grazie. bene. Dunque. Allora. Eh io non so se eh come dire colgo un elemento comune alle due parti se non addirittura tre se comprendiamo anche diciamo la traduzione di alcuni testi importanti classici potremmo quasi dire anche se non molto conosciuti se non magari dagli esperti però quando dico che eh a mio modo di vedere il problema molto complesso che qui si cerca di mettere a tema in realtà è quello del rapporto tra storia ed evento. E nel duplice senso ovviamente per cui l'evento sta nella storia è un prodotto della storia ma non è riducibile a ciò che lo produce storicamente. Si presenta sempre come un qualcosa che non è ricomprensibile cioè comprensibile all'interno delle categorie dalle quali sembra essere scaturito e quindi produce inevitabilmente appunto una riformulazione magari di alcuni problemi una necessità di trasformazione dei processi che erano in corso. No? Allora da questo punto di vista vi faccio un piccolo appunto ma è una stupidaggine. E sono rimasto un po' stupito che tra diciamo gli autori dai dei quali vi siete occupati non ci sia Badiou. Dopo mi rispondo. Perché da questo punto di vista mi sembrava un autore che si poneva in qualche maniera molto bene all'interno di questo tipo di problema anche con tutta una serie ovviamente di problemi tra cui il suo odioso e spesso inutile formalismo. Però in ogni caso è un autore che cerca di pensare appunto l'evento in realtà al contempo come il frutto di un processo e come la trasformazione di quel medesimo processo. Quindi esattamente il problema di cui credo discuteremo anche nei prossimi giorni in buona parte tra continuità e discontinuità e come diceva Carlotta adesso anche il problema appunto del soggetto o della soggettività o della soggettivazione che stanno all'interno di questa processualità. Allora se facciamo finto ovviamente in questo caso che questo sia il piano non comune perché poi i saggi sono anche molto diversi tra di loro e devo dirlo cioè nel senso ed è bello che giusto giusto bello e proficuo che sia così perché è chiaro che si vede che c'è un lavoro che è comune ma che come dire porta anche in direzioni potenzialmente differenti no? Quindi però stando su questo piano e provando a fare una cosa forse strampalata non so se fosse nell'intento anche vostro cioè quella di mettere in relazione la prima e la seconda parte dell'almanacco che sono ovviamente tematicamente profondamente diverse perché la prima appunto si occupa di una serie di di questioni di riflessioni attorno alla pandemia e l'altra invece ha chiaramente come possiamo dire un'impostazione più filosofica anche in senso tradizionale in senso classico affronta problemi anche dal punto di vista filosofico ecco allora questa è una cosa questo sbalzo mi ha colpito cioè nel senso che se noi pensiamo alla pandemia come un evento no? E credo questo fosse almeno in parte il senso di occuparsi di questa cosa beh allora però come possiamo dire lo sfondo o se vogliamo la struttura epistemica nei confronti della quale questo evento si produce è una struttura di tipo scientifico cioè il covid non è una cosa sconosciuta come sappiamo cioè non è che questo è il primo covid che ci capita infatti si chiama SARS-CoV-2 perché ce n'è già stato un altro e poi abbiamo imparato che di tipologie di questo virus ne esistono in realtà moltissime quello che è successo è la sua appunto imprevedibilità dal punto di vista di quelle strutture potremmo dire istituzioni credo no? Di tipo politico di tipo scientifico di tipo legate alla profilassi no? Legate però anche alla capacità come possiamo dire di prevedere o comunque di regolare il il nostro rapporto con l'ambiente che ci ha lasciato completamente spiazzati prescindiamo ovviamente perché io non sono in grado di trattare di questo tema però se voi lo siete vi ascolto volentieri cioè di quale sia l'origine ovviamente se umana artificiale è scappato o non è scappato lasciamo perdere è successo prendiamo questo come come elemento no? È successo e al di là ripeto di chi l'abbia prodotto l'evento che il covid appunto è stato ha messo in crisi contemporaneamente non solo le nostre abitudini ovviamente ma ha messo in crisi secondo me molto probabilmente alcune strutture epistemiche del nostro sapere. Ha messo cioè in crisi quell'idea di scienza forse più propagandata dai media mainstream che non dagli scienziati veri e propri che mi sembrano tendenzialmente più consapevoli di quello che fanno che non di quelli che poi divulgano non l'alta divulgazione scientifica che in genere è fatta da scienziati e anche sempre utile e ben fatta ma insomma dai comunicatori dei media che come dire tra un intervallo pubblicitario e l'altro devono spiegarti tutta la teoria della relatività quando non sanno neanche che cos'è. È chiaro che lì come dire si producono probabilmente delle semplificazioni. Ecco, non tanto solo rispetto a questo però, a me pare che sia stato coinvolto un piano un pochino più profondo, quasi una specie come possiamo dire appunto di punto di rottura di un assetto epistemologico. Non nel senso che non siamo in grado di capire o di conoscere, tutto sommato ci abbiamo messo anche relativamente poco rispetto a pandemie precedenti, no? E l'abbiamo fatto con strumenti in parte noti, in parte innovativi. Il problema è che questo evento pone, secondo me, quel poco che capisco, un problema estremamente complicato riguardo al controllo. Nel senso non solo che è sfuggito al nostro controllo, ma che dimostra che noi non abbiamo un totale controllo su quello che noi stessi diciamo di fare, o pretendiamo di fare, o diciamo agli altri che stiamo facendo. quindi, come possiamo dire, è un problema che riguarda la consapevolezza, se volete, la trasparenza, ma anche la capacità di autorappresentazione delle strumentazioni, delle strutture scientifiche, ma anche delle politiche riguardo alla scienza, ovviamente, che noi abbiamo messo in campo in questi ultimi anni. Cioè, voglio dire, qui non siamo di fronte ad un qualcosa di là che sia partito dalla Cina o da qualunque altro posto, mi interessa relativamente. Se anche fosse partito dalla Cina, sono laboratori internazionali, a cui collabora praticamente Mezzomondo. Cioè, sono strutture scientifiche che fanno parte, appunto, di un progetto politico. Il progetto politico è quello di riuscire sempre più, ovviamente, a controllare gli eventi. Mi pare che l'evento, se c'è stato, credo che in buona parte questo lo sia, come probabilmente è un evento la guerra, ma la guerra è da sempre un evento, in un certo senso, almeno quando non è eccessivamente annunciata, è proprio questo. Cioè, l'evento è che noi non abbiamo nessuna capacità di controllare, di prevedere gli eventi. E questo ci pone in una situazione, secondo me, piuttosto complicata. Allora, come si collega 5 minuti, eh? Questo con, diciamo, la seconda parte che è completamente diversa, ovviamente. Allora, diciamo, per come me la sono sostanzialmente immaginata, più che pensata io, questo si collega perché, come posso dire, questa, Balibarlo dice almeno in una prima parte, diciamo, del suo saggio, no? Questa risorgenza, che però secondo me non c'è mai stata in questa stessa forma, è una sorgenza, cioè è la prima volta. Perché in tempi, diciamo, passati più o meno remoti, nessuno parlava di eventi, se non nel senso colloquiale del termine fondamentalmente. Io la dico in un modo diverso da come la dice Balibar, che è molto, come dire, corretto e lui è un signore, io invece sono, vengo dal Veneto appunto, quindi voi capite bene che più di tanto noi non riusciamo, cioè l'articolazione ad un certo punto in realtà precipita in una forma di riduzione. Cioè si parla di evento per non parlare di rivoluzione. Allora, appunto, Balibar lo dice in un altro modo, no? L'evento contro la processualità, l'evenemenzialità, contro le filosofie del processo, lui dice Hegel sicuramente, per quanto riguarda le grandi filosofie dello spirito borghese, e ci mette in mezzo anche Heidegger, certo, perché, sì, perché non è l'evento che aveva in mente Heidegger, diciamo così, no? Cioè non è quell'evento da cui scaturisce in realtà una sorta di illuminazione su qualcosa che non c'era, ma in realtà appunto è la rottura di assetti che noi credevamo fossero delle garanzie. Quindi in realtà la paradossalità di questo evento, ed è ciò che io temo sopra ogni altra cosa, è che non ci fa vedere niente. Ma non perché in sé, come dire, non avrei aperto uno squarcio, ma perché noi non siamo in grado di vedere niente. E da come sta andando avanti la cosa, a me pare, come dire, del tutto chiaro questo. Cioè noi stiamo, abbiamo detto, vabbè, adesso è risolto, adesso troviamo il vaccino, no, ci facciamo tutto il vaccino una volta all'anno, un po' come quello dell'influenza e continuiamo ad andare avanti come prima. Cioè non abbiamo capito che il problema sta là, sta nel continuare ad andare avanti come prima. Quindi non è un evento rischiaratore, in un certo senso è un evento che era buia. Cioè ci, come dire, ci fa precipitare nuovamente dentro quel vortice da cui questa casualità, comunque sia, comunque sia avvenuta, ripeto, ci aveva fatto uscire. Allora, questa, diciamo, questo grande parlare appunto di evento, non in senso trascendente, quindi non contrapposto ovviamente all'immanenza, eccetera, eccetera, ma appunto come potremmo dire? Qualcosa che dà senso, no, perché riorienta la storia e ci libera in un certo senso dal peso di pensarla come un processo, che è una cosa faticosissima. Il processo è fatto, come sappiamo, di ripetizioni, di accumulazioni, di perdite, si torna indietro, si ricomincia, spesso dallo stesso punto, oppure da un punto lì vicino, insomma non si finisce mai di arrivare dove si dovrebbe arrivare. L'evento sembra in qualche modo aprire, o sembrava forse aprire, a me mi pare che è uno dei pregi di questa cosa che forse chiude definitivamente questa prospettiva, appunto come qualcosa da cui potessimo aspettarci, non dico una salvezza che è eccessivo, però un'indicazione chiara. E questo, ripeto, per me è un problema di struttura epistemica, perché se qualcosa accade e tu non riesci a capire, no, all'interno del tuo sistema simbolico che cosa questa cosa, accaduta per caso, ti sta dicendo, vuol dire che è fondamentalmente inutile. Vuol dire che non serve a niente. E quindi che probabilmente si ripeterà, e qui nonostante la mia grande ammirazione per Marx, non penso che sarà una farsa. Ok? Ecco. Allora, perché è chiaro che l'altro versante, secondo me, sottovalutato, o perlomeno non così esplicitato, della, appunto, sorgenza delle filosofie dell'evento, o di una riflessione, appunto, legata all'evento, anche se in modi molto diversi, adesso qui bisognerebbe chiaramente scendere nei particolari, non si può, è che tra le filosofie del processo c'è ovviamente anche il marxismo. Questo è evidente. E io penso che molto più che contro Hegel o contro Heidegger, questa cosa qui sia pensata contro il fantasma, la cui cosa, l'unica cosa che mi rincuore è sapere che è vivo e vegeto, almeno in quanto fantasma, no? Perché, voglio dire, sì, certo, Hegel e Heidegger sono grandi, ovviamente, pensatori, estremamente importanti, Heidegger è forse il pensatore più influente della seconda parte del Novecento e credo anche di questo scorcio di ventunesimo secolo, al di là, perché per gli usi molto diversi, ovviamente, che ne vengono fatti. Ma il fantasma, però, non è lui, non è il suo nazismo, come dire, più lungo in realtà cronologicamente di quello che si immaginava, non è, come dire, la compromissione hegeliana con lo Stato borghese, eccetera, è proprio il marxismo, di cui non c'è traccia ormai in nessuna parte del mondo, tranne che in qualche sparuto seminario, da qualche parte, eppure di cui tutti hanno una paura fottuta. fottuta. Allora, forse ha ragione Mario Tronti, quando dice, ah, vabbè, io non so, voi mi direte che sono un reazionario vecchio stalinista, però io so che i comunisti sono gli unici che gli hanno fatto paura, gli altri non gli fanno paura, gli altri vengono riassorbiti, vengono rimestati, rimescolati in mezzo. Allora, questa cosa dell'evento, adesso per non fare tutta una tirata su strava qui, mi pare che ci dia effettivamente delle indicazioni, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Carlotta, quindi ovviamente non lo ripeto, però, ma al di là anche degli autori dove si può sempre trovare una forma di evenemenzialità, ma va bene, non è questo che si tratta di, come dire, di criticare o di non mettere in discussione, quanto piuttosto di capire allora, non tanto o non solo, quali sono le varie logiche, mettiamole così, dell'evento o degli eventi che vengono analizzate, che vengono utilizzate, quanto piuttosto che cosa ci dice, non solo da un punto di vista culturale, peraltro non trascurabile, ma che cosa ci dice da un punto di vista filosofico e da un punto di vista epistemologico, perché credo che la filosofia e la scienza in qualche modo devono provare a comunicare, forse anche di più di quello che stanno facendo, di questa appunto sorgenza dell'evento, che cosa ci sta, che cosa ci stanno comunicando? Allora, la mia impressione, ed è un'impressione, su cui sta anche poi mi fermo, è che, come posso dire, in un certo senso il ricorso alla figura, al concetto, quando è concettualizzato ovviamente, o al tema, ma anche più semplicemente dell'evento, segni non solo una diffidenza o una paura, appunto, nei confronti delle filosofie del processo, interessante la parabola di Fukuyama, che Elia, come dire, discute, ma che ci sia anche una diffidenza nei confronti della scienza o delle scienze, visto che non sono tutte uguali, hanno anche, no, parametri e, diciamo, regole epistemologiche, logiche sperimentali, molto diverse tra di loro, però in qualche maniera come se l'evento fosse qualcosa che accade in una dimensione che non tocca non tanto il nostro sapere personale o anche collettivo, ma che non tocca una forma specifica del nostro sapere personale e collettivo, che è appunto quella scientifica. Cioè l'evento è, ripeto, cerco di, forse, di estremizzare, di forzarlo in una direzione magari eccessiva, appunto, ha il suo senso nel momento in cui mette in crisi ciò che avevamo predisposto per provare a comprenderlo o addirittura a prevederlo, che è la funzione della scienza, tra le altre cose, ovviamente, è anche questa. Cioè dimmi prima quello che accade e che così mi attrezzo. Ok? Attenzione però, non è, allora, una cosa è un fatto, cioè l'evento che accade e che mette in, ma l'insistenza filosofica, culturale, sociale, sociologica, tutto quello che volete, su questa questione dell'evento mi pare che tragga una conclusione impropria, la metto così, un po' criticamente. Cioè, come dire, non fidatevi più di chi vi dice che sa qualcosa, perché in realtà non lo sa e non lo sa perché quello che può capitare è o imprevedibile o ingestibile anche se accade. Ora, questa, come dire, nozione di buon senso è qualcosa che ci può probabilmente nonno Adamo, già ne aveva parlato a lungo con Eva, poi si erano rotti le scatole e per quello erano andate in cerca di distrazioni, fondamentalmente, perché non erano del tutto riusciti a risolverla, no? Cioè, è ovvio che è così, ma questo non pregiudica il fatto che si debba cercare di conoscere per prevedere. Il fallimento, a proposito, non è il fallimento, come possiamo dire, di un assetto complessivo, è il fallimento di alcuni momenti, di alcune scelte probabilmente, di alcune procedure, anche di alcune persone, perché a volte anche questi sono fallimenti e non sono di poco conto, nel senso che hanno conseguenze molto più ampie. Allora, io non vorrei appunto che l'evento venisse utilizzato non tanto per criticare la scienza, cosa sempre buona e giusta, perché la scienza procede così. Se tu vuoi fare un dispetto a uno scienziato, gli dici che hai ragione, che ha ragione. Ad uno scienziato tu non devi mai dire che ha ragione, anche se non sai perché. Ti inventi una balla qualunque e gli metti un tarlo, perché questo è quello che gli serve per il mestiere che fa. Che ha scelto lui o lei tendenzialmente. Quindi non vorrei appunto che si confondesse, o meglio, si estremizzasse il fallimento fino a farne una sorta di visione del mondo. Cioè siamo destinati a fallire. Non siamo destinati a fallire, alcune volte riusciamo, alcune volte non riusciamo. Funziona così in tutte le cose peraltro. Quindi quello che io vedo è una specie di esplosione, no? Perché adesso tra un po' tutti avranno il loro evento. Avremo la moltiplicazione degli eventi come quell'altro moltiplicò i panni e i pesci, a ognuno la propria moltiplicazione. Poi prima o poi faremo anche una divisione, ma quella viene dopo. Di soldi almeno. Io ricordo che prima la moltiplicazione, siccome la divisione è l'inverso, allora prima ti spiegano come si moltiplica, poi ti spiegano che la divisione è solo l'inverso e tu pensi per giorni che cazzo è l'inverso perché non mi hanno spiegato. Vabbè, non importa. Allora, quindi la veremo alla moltiplicazione degli eventi. Per me questo è un evento, per Carlotta quello è un evento, per lui quello è una... e saremo pieni di eventi in cui non ci capaciteremo più del fatto che ci sia realmente qualcosa di importante di cui ci dovremmo occupare. Cioè, non vorrei che come dire, che fossimo sulla soglia nel tramonto, perché è sempre lì che accadono le cose peggiori, nel tramonto in realtà, diciamo, di questa idea filosofica, eccetera, la sua assunzione a livello culturale appunto in una sorta di appunto pluralità o infinità o molteplicità di eventi che tra l'altro poi non sono neanche solo singoli, ma sono multipli all'interno di ogni singolo. Per cui il mio evento oggi è questo, domani incontro Vittorio ed è come si sa sempre un evento, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, in questa maniera, non è un modo per, come possiamo dire, per così, per sorridere o per prendere in giro gli eventi che effettivamente toccano la vita di ognuno di noi, ma perché credo che qui si sia parlando semplicemente di un'altra cosa, cioè è un'altra, è un altro tipo di evento ciò di cui stiamo discutendo, appunto quell'evento che mette in discussione il nostro sapere o i nostri saperi se volete pluralizzare. Ecco, mi pare molto importante quello che c'è appunto in questo testo per cercare di riproblematizzare la nozione di evento senza cadere in questa specie, diciamo, di così, versione, no, che va bene per tutti, non oso neanche dire popolare, perché tutto sommato quello c'è anche un suo valore, no, ma proprio così, ognuno si fa il proprio evento, no, ma sì, usa e getta o perfino peggio, insomma, non lo so, ecco. Quindi direi che se, o meglio, a me è parso molto utile leggere queste due parti così apparentemente molto, non parlo della pezza perché se no parlo troppo, no, perché la cosa di Schurman sull'anarchia, scusate, potrebbe avere molto senso con questa roba qui, ma non importa, e diciamo appunto per cercare di capire come non, come dobbiamo, cioè insomma, quello che ci dobbiamo fare è qualcosa di diverso rispetto a quello che è stato fatto o che anche alcuni di noi almeno hanno fatto finora, ovviamente, cioè provare a tenere assieme questi due piani e secondo me questi due piani si possono tenere assieme se noi accettiamo di rimettere in discussione le strutture epistemiche con cui stiamo pensando la realtà. Basta, va bene. Questo è mio? Grazie mille. Grazie a te, grazie a voi. Grazie per il tempo e la passione che ci avete dedicato questa sera e per gli stimoli alla discussione, nonché per gli interrogativi che avete posto e che non sarà facile risolvere interamente, rispondervi in maniera soddisfacente. Perché tu non mi dica che lo risolverà un evento, sono risolto a qualunque risposta. Però il volume non dice questo, per cui sarei infedele verso lo stesso volume. e come diceva Mattia, ed è importante anche per comprendere appieno la prospettiva del volume, viene come quarto episodio di una serie, tutto ruota intorno al seminario permanente di filosofia e politica, in cui tante e tanti di noi lavorano da anni e in cui abbiamo ragionato intorno all'istituzione, sempre intesa come verbo, quindi al movimento dell'istituire, la prassi istituente o su un piano più diacronico che entra in gioco appieno in questo volume, il processo istituente. Allora, per darci delle coordinate, per quanto non sia possibile risolvere o riassumere il dibattito sull'istituzione che a sua volta è eterogeneo, complicato e anche polemico al suo interno nei volumi precedenti, l'istituzione come prassi, attività teoriche e politica di mettere in forma i conflitti, non per neutralizzarne la forma, la forza, scusate, ma per aumentarne la forza e l'estensione nel tempo e nello spazio. Quindi l'istituzione del conflitto, come la chiama Francesco Marchesi nel suo saggio, come la chiamiamo da tempo richiamandoci tutti a una matrice machiavelliana di questo ragionamento che poi può prendere strade diverse, quella forma istituzionale che aumenta e moltiplica la produttività e la durata dei conflitti. Questo sinteticamente distingue l'istituzione del conflitto per intenderci da alcune istituzioni esistenti che possono venirci in mente in maniera più intuitiva, quelle dell'amministrazione pubblica, dello Stato, del welfare, gli istituti giuridici per almeno due motivi che non è sempre facile tenere insieme a mio avviso e che rappresentano anche bene la complessità. Il primo è l'apertura dell'istituzione, l'apertura, il suo carattere vitale e il suo carattere sempre aperto all'evento. La struttura evenemenziale di queste istituzioni che negli eventi, negli accidenti, sono aperte al mutamento accidentale. Pensare queste forme aperte alla perturbazione, al mutamento occidentale, pensarle intrinsecamente aperte all'evenemenziale e non chiuse in una struttura conservativa o repressiva, ma al tempo stesso, e qui la difficoltà, aperte al sociale, aperte ai rapporti di forza, agli eventi sociali, sì, ma anche producendo uno scarto rispetto a quelli per problematizzare anche una fase politica e teorica che abbiamo chiamato crisi dell'immanenza, in cui richiediamo anche uno scarto che nel politico cerca delle forme di distanza e di scarto capaci di governare. Il sociale, la storia, gli eventi. E questa doppia dimensione, l'apertura alla spinta a certi stimoli che vengono anche in forme evenemenziali, impreviste da certi conflitti sociali, ma al tempo stesso uno scarto che faccia sì, per dirla banalmente, che non siano istituzioni travolte, mangiate dal mercato, dai mercati, da certi soggetti sociali che non sono quelli del conflitto come lo può intendere un marxista, ma che sono quelli dell'economia politica che schiacciano e neutralizzano completamente le istituzioni su un piano eccessivamente immanente. Allora, questo è un ragionamento sull'istituzione, su l'istituente che stiamo facendo. Interrogarlo dal punto di vista dell'evento ci ha portato a interrogarlo anche dal punto di vista di un certo fuori, di una certa esteriorità, che può essere il non umano, quindi l'attività di un virus nella suo passaggio, nella sua irruzione dentro una dimensione umana e sociale, quindi l'attività del non umano, il non istituito, il non filosofico. Abbiamo provato a chiamare evento, che certo è una categoria complicata da gestire, questa esteriorità e a provare a mettere l'istituente al confronto con il suo fuori, che può essere una pandemia improvvisa, che possono essere le rivolte completamente disorganizzate con tutti i tratti destituenti che ci pongono dei problemi, che può essere in generale quello storico che è difficile, che possiamo chiamare non filosofico. Allora, per darci delle coordinate, restituire anche alcuni dei saggi, quelli più ispirati ad Altusser, più ispirati a un certo Machiavelli ripreso in forme diverse, dalla fenomenologia piuttosto del marxismo, contingenza storica, evento, lo abbiamo sempre cercato di qualificare come effetto di determina, di strutture, di determinazioni strutturali. L'effetto, l'intreccio di molteplici processi articolati uno sull'altro, l'imprevisto, l'inedito dell'evento, la contingenza come contingenza determinata, sempre provata a essere percepita, filosoficamente analizzata nell'articolazione dei processi, che pur essendo articolati hanno degli scarti, delle differenze tra di essi, e la sorpresa che sorprende quegli stessi processi, i suoi soggetti, all'intreccio, all'incrocio di certe determinazioni strutturali, di certi processi, di certe temporalità plurali, di certi sfasature temporali che possono talvolta collidere tra di loro. Per dirla più, ancora più chiaramente, abbiamo criticato e discusso criticamente con l'idea dell'evento puro, dell'evento come indeterminazione, che può aprire a interpretazioni messianiche, che può aprire a interpretazioni tutto sommato, anche se i vari autori andrebbero trattati diversamente, ci è sembrato destoricizzante. Eventi impuri, abbiamo provato a pensarli, a definirli, non l'evento puro di come, come dice Balibar, una certa filosofia francese, che lui chiama evenemenzialista, mettendo insieme autori diversi, Deleuze, Derrida, Badiou, hanno eccessivamente fatto una metafisica dell'evento. Noi abbiamo in tutto il volume ragionato molto diversamente, anche trattando questi autori per, diciamo, superarli o quantomeno per usarli diversamente e sempre, per l'appunto, cercando le determinazioni, le condizioni che producono eventi, evento. Ma al tempo stesso, l'evento come apertura, come salto, come occasione, in alcuni saggi, come apertura alla trasformazione. Momento dell'innovazione, quel momento critico che rappresenta, come giustamente dice Emanuele Renone nel suo saggio, un momento critico che costringe quei processi che intrecciandosi lo hanno determinato, o a un momento di biforcazione, o a un momento di deviazione. Pensiamo a come alcune forme di governo nella pandemia hanno comunque dovuto deviare il loro corso, o addirittura a un momento di interruzione, di inversione ancora più radicale di quei processi. Quindi abbiamo provato a pensare queste due cose insieme, le determinazioni strutturali che producono in maniera imprevista un certo evento, l'intreccio di molteplici processi che nella loro pluralità possono determinare evento, e quando si determina qualcosa che chiamiamo evenemenziale, un'apertura, un salto, un momento indeterminato. E allora quello che cercando di, per l'appunto, analizzare la storicità concreta, la storicità delle istituzioni, è questo regime misto di determinazioni e di una certa indeterminato che l'evento può produrre, che si può produrre nell'evento. La domanda latente, soprattutto della seconda sezione, che può usare la prima pomerichiamo, come stampella, è che cos'è una trasformazione, come cambiano queste istituzioni, come mutano e come pensiamo il mutamento, perché non si può banalmente dire cambiano sempre, sono un mutamento continuo. Ci sono dei momenti di mutamento, di trasformazione, che chiaramente possono essere concepiti come il problema della rivoluzione, possono essere concepiti anche come un problema della trasformazione non rivoluzionaria, e su questo vorrei ritornare, ma effettivamente si pone dentro quasi tutti i saggi, dal punto di vista dell'evento, la domanda come cambiano queste istituzioni, qual è il mutamento, e diciamo che potremmo sintetizzare due diverse linee di risposte, che nel volume rimangono insieme, che nel nostro progetto di ricerca abbiamo sempre con esposito cercato di tenere insieme. La prima la chiamerei apertura e la seconda rottura. Apertura per chi prova a pensare il cosiddetto lato non cristallizzato delle istituzioni, il pensare all'istituzione come una forma insatura, che ha un'apertura alle vene menziale e che è detta in termini un po' sintetici, dentro la forma istituzionale, nella sua continuità, nella sua storicità, nella sua durata, si possono creare al suo interno delle novità, o anche delle nuove istituzioni dentro e partorite dentro, esistenti, che dentro un campo di senso, una formazione di senso, rispetto ad alcuni saggi su dedicati alle forze nel volume, può essere sedimentata un'esperienza intensiva, che chiamiamo evento, un' esperienza concentrata, che apre un nuovo senso da quello. Un'altra linea attraverso cui viene un po' pensata la trasformazione di vari saggi, diciamo, particolarmente efficace, a mio avviso, è la traduzione, il saggio di Simone Veil, che traduce Rita sulla rivolta dei cionpi nel 300 a Firenze, perché in quel saggio, che ho trovato bellissimo, che sono stato veramente felice di pubblicare in questo volume, la rivolta dei cionpi, proletari della lana, nella Firenze delle arti, delle corporazioni. Nell'occasione in cui si perde l'equilibrio politico della città, eletto a gonfaloniere di giustizia un piccolo borghese, il comando capitalista, come lo chiama Simone Veil, facendo analisi marxista di quella rivolta, vacilla, si determina anche uno squilibrio dentro le arti maggiori, i cionpi prendono le strade, incendiano le prigioni dove stavano indebitati i loro operai o comunque le persone indebitate della società dell'epoca, incendiano le dimore di lusso, creano, prendono il palazzo del potere o d'inverno per formare un governo provvisorio e al tempo stesso a Santa Maria Novella creano un governo extralegale, un governo dove producono una nuova istituzione, quello che in tutta una serie di studi ben rappresenta in maniera figurata immediata il dualismo di potere o il doppio potere. Ecco, due modi che cerchiamo di tenere insieme dentro il nostro campo di ricerca, che non si escludono l'uno sull'altro e che non vengono pensati in maniera dicotomica, in altri termini e soprattutto si vedeva bene nel numero precedente, sia nel saggio di Balibar che in quello di Mezzadra nel numero precedente, non ragionare nei termini della dicotomia riforma-rivoluzione. Pensare che tanto chi è un rivoluzionario oggi non può che darsi come obiettivo e come programma rivoluzionario delle determinate riforme, che sono quelle che i cionpi presentano, insorgendo in piazza ed è un programma di riforme fiscali, di rappresentanza politica, che presentano dentro le istituzioni esistenti, che non possono essere superate, ignorate, a meno di essere nichilisti o idealisti, a mio viso, e al tempo stesso per chi pensa la riforma in un determinato quadro teorico, politico, che abbiamo provato ad analizzare, non c'è riforma che non abbia un momento di rottura. E questo è un po' un modo con cui attraverso l'evento ripensiamo anche il problema della rivoluzione. Vado su rapidamente, perché non potrebbe essere diverso, su alcune questioni che avete posto. Ne scelgo alcune, magari non le tratto proprio tutte, e poi mi appello anche un aiuto dal pubblico. No, il rapporto soggetto-evento. Abbiamo detto in vari modi in questo volume che il soggetto non precede l'evento, che l'evento non è l'esito o il risultato, o una certa fase di realizzazione di un certo soggetto, per criticare, come fanno i saggi più ancorati alla fenomenologia, l'idea di soggetto costituente, e pensare nell'evento l'emergenza di una nuova soggettività. Questo penso che sia importante sottolinearlo, ti ringrazio di averlo richiamato, perché effettivamente, come dice anche Balibar, pensare in rapporto all'evento il processo, il processo, pensarlo in rapporto all'evento, il processo istituente, è anche un modo per porre il problema del soggetto, e per pensare che il soggetto non è il soggetto padrone di determinati processi politici, e costituente, nel senso che al suo interno ha già la forza di produrre il suo mondo, ma nell'evento, o tutto sommato, è anche così in Foucault, che alcune volte c'è la soggettivazione, è un modo per chiamare un certo processo di soggettivazione, e Roberto Esposito lo dice, l'istituzione è soggettivazione, non è un soggetto che produce le sue istituzioni, ma nella origine evenemenziale, nel momento evenemenziale dell'istituzione, si forma una soggettività non preesistente. Questo sarebbe un discorso lungo, che prevederebbe di affrontare come per Heidegger l'evento è stato la destituzione di una certa soggettività, è un pensare in forma desoggettivata, tutto sommato tutti quelli che parlano di evento cercano di rimodulare il problema del soggetto. Per Deleuze nell'evento il soggetto perde la propria identità, è perso in doppie, triple direzioni, non sa più chi è, scopre la propria struttura impersonale, in Derrida l'evento è la destituzione del soggetto che scopre l'alterità e si scopre trafitto da una certa alterità, ma c'è sempre questo problema. Noi proviamo a pensarlo come la prassi istituente, come quel momento dove emerge un soggetto che non c'era prima. E secondo me anche alcune questioni più politiche di questi anni, non so, io penso anche, dato che veniva molto da altri punti di vista toccato, ad esempio anche la prima grande mobilitazione femminista del 2016 in Italia, non so se può essere richiamata un evento, quella del novembre 2016, ma portava sulla scena un soggetto pubblico che fino a quel momento non era riconosciuto come tale ed emergeva una nuova soggettività. sulla pandemia sostanzialmente, anche se abbiamo deciso di non parlarne, anche perché la prima parte del volume sarebbe appunto molto diversa, con contenuti diversi. Allora ci sono almeno due cose che vorrei riprendere. cosa ci ha fatto vedere la pandemia? Effettivamente, secondo me, e qua la faccio breve, però sarebbe anche questo un discorso lungo, è come se, secondo me, e qua vado anche al di là del volume, la pandemia ha rimesso in gioco le grandi questioni epocali, i processi di lunga durata, ha riaperto nell'essere crisi, nell'essere un momento di crisi dove i processi ecologici, i processi di smantellamento della sanità, i processi di allevamento intensivo, piuttosto che di devastazione ambientale, deforestazione, di certo governo della popolazione, certi processi di lunga durata, la crisi climatica, nei suoi effetti, ha riaperto una visione sui processi lunga durata. E al tempo stesso ha imposto però un'emergenzialità che non permette di interrogarli nella loro apertura sull'avvenire, sul futuro. Mi sembra che, tra l'altro, proprio qui Giudice Revella ha fatto una conferenza su questo, che abbia avuto un po' questo, siamo ancora in questa chiasma in cui si aprono grandi processi, si riapre la storia, anche quella dei tempi di lunga durata, di brodele, eccetera, e però vengono schiacciati su un presentismo, che non permette di farne progetto politico, ma anche a livello individuale, è difficile fare progetti, o che impone un breve termine. Cioè, mi sembra che il futuro, riaperto dalla storicità della pandemia, sia un po' nato morto, o abbia avuto difficoltà a essere abitato politicamente. Però questa è per dire che, secondo me, non è né che ci ha fatto vedere nulla, né che ha segnato la fine della normalità, ma avrebbe riaperto un interrogativo sui processi di lunga durata, che però sono stati rimessi dentro una dimensione in cui l'orizzonte d'aspettativa, l'attesa del futuro, quella dimensione schiacciata da un certo presentismo, che c'era già prima della pandemia, perché erano vent'anni che si parlava di eterno presente, presentismo, ma che è stato potentemente imposto la pandemia. E l'altra cosa è che l'evento non può essere un modo per dire che non possiamo prevedere nulla. Io penso, provo anche a parlare nel mio volume, che parlare di evento, in rapporto all'evento, come dice Balibar, significa anche chiedersi cosa vuol dire prepararsi agli eventi. Prepararsi agli eventi non significa progettarli, ma prepararsi a un evento. E qua ritorna in campo, secondo me, il tema dell'istituzione, della struttura politica, di una certa struttura politica capace anche di essere qualcosa di un po' più stabile rispetto ai flussi del sociale, alle continue spinte vitali, cioè avere delle strutture con cui prepararsi a degli eventi. Ma fare dell'istituzione ha anche una forza previsionale, che nell'istituzione si possa avere capacità di previsione. Quindi l'evento non soltanto come ciò che viene prima, ma anche come un qualcosa che prepari, che pensi di poterlo costruire e attraverso la durata istituzionale, progettare, provare a prevedere, prefigurare e fare di quella previsione trassi istituzionali. Fare, come diceva Gramsci, la previsione è costantemente la costruzione del preveduto e al tempo stesso, laddove invece parli di eventi ancora più imprevedibili, essere pronti ad attraversare momenti bui, come può essere quello della pandemia, attraverso una certa forma istituzionale. Quindi la scienza, con la sua centralità che ha avuto nella pandemia, credo che vada riabilitata la capacità previsionale della scienza, rilanciata in termini di sua diffusione, perché credo che tutti con la pandemia ci siamo resi conto di come un'istituzione, un'istituzione oggi dovrebbe rendere pubblico e il dibattito scientifico in termini seri e anche politicizzare il dibattito scientifico e aprire alla società il dibattito scientifico per farne previsione, per farne capacità di previsione non soltanto tecnica ma anche politica. E vi ringrazio di nuovo perché è stata molto molto bella come proposta. Grazie a te. Vuoi aggiungere qualcosa? Beh, dato che abbiamo più autori del volume di Lucky, di qua, e dato che... Ah, bene. Volevo solo... Credo che sia saltata la diretta. Ottimo, così possiamo fare polemica. No, non è saltata, no, perché qui non la vedo più. Ah, c'è di là, scusa. No, 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 ma era solo per... perché qui era saltata. No, è anche meglio che non... C'è ancora la diretta. Vabbè, io... No, sì... No, lascerai. Beh, vi tocca. Beh, io un paio di cose... Mi sa che le devi dire al microfono per la diretta. Vieni qua. Sì. Allora, intanto... Ah, aspetta, scusami, dico solo che si può, credo, scrivere dei commenti, cioè, per chi segue online credo che ci sia la possibilità di di scrivere qualcosa e che io posso vederlo da qui. Per ora abbiamo un commento abbastanza secco e diretto che scrive ma... ma M-A-H, quindi che scrive... che scrive un grosso dubbio, credo, scritto mentre parlavo io, quindi... che esprive dei dubbieri su di me, quindi... invito... No, no, lo facciamo con me. No, dico, invito a... Io mi riesco di assumermelo. Invito a sviluppare questo ma per poter rispondere più che volentieri. Allora, io entro direttamente in critica con... in polemica col ma, no, nel senso... Nel senso che in realtà, secondo me, ho apprezzato molto il modo in cui avete letto il volume e volevo semplicemente provare a mettere sul piatto una questione e prima una breve cosa sulla questione della pandemia che, insomma, quello che dicevi tu adesso verso la fine, Andrea. Secondo me, in realtà, su questo sono forse più d'accordo con Fabio sul fatto che abbia oscurato determinate cose proprio per quella questione del presentismo a cui accennavi tu, cioè si è riprodotta una logica che abbiamo già visto anche con la crisi del 2007 e il 2008 in cui sembrava che fossimo pronti a ripensare a determinati modelli di accumulazione finanziaria, eccetera, poi in realtà dopo 10-15 anni siamo ancora qui e siamo ancora in attesa dello scoppio della nuova bolla, eccetera, eccetera, e potremmo anche andare ancora più indietro. Ma al di là di questo, la cosa che volevo provare un po' a mettere sul piatto è questa. Giustamente, sia a noi nella nostra discussione al seminario sia stasera, si parla spesso, si parla di istituzione, ma si parla poi di istituzioni al plurale. E questo, per quello che l'istituzione per sua natura è, cioè comunque in qualche modo un tentativo, diciamo, anche normativo, cioè una sorta di coazione all'ordine esterna rispetto a qualcosa che si vuole in qualche modo regolamentare in un certo modo, questo presuppone la pluralità delle istituzioni e soprattutto delle nuove istituzioni, presuppone lo scontro tra istituzioni. Tanto nel caso dei ciompi quanto, non so, se pensiamo a tentativi di novità istituzionale come può essere il confederalismo democratico, lo scontro con lo Stato sovrano classico è, direi, lampante. Perché dico questo? Perché se dentro l'ottica dello scontro tra istituzioni, rispetto alla questione dell'evento, cioè, cosa ci dice il fatto che quando parliamo di istituzioni c'è uno scontro tra istituzioni, punto di domanda? Secondo me, ci dice che sì, l'istituzione come qualcosa di aperto, sì, l'evento come qualcosa che è insieme, sia processo, sia event, però poi alla fine, in qualche modo, esattamente per quel carattere di imprevedibilità che l'evento ha, qualsiasi istituzione per quanto nuova, ha un problema a un certo punto con l'emersione dell'evento e ha un problema esattamente perché la sua natura è quella di tentare in tutti i modi di dare un ordine e se l'evento è qualcosa che sfugge a quest'ordine per quanto, appunto, anche in senso positivo e per quanto pronta l'istituzione a recepire questa novità, diciamo, una qualche scossone anche radicale, un qualche scontro anche interno a questa nuova istituzione si produce e quindi il problema o di andare avanti all'infinito in, appunto, un conflitto centrifugo per cui ogni volta non esiste una base stabile su cui provare a fare questa cosa oppure di tradire, tra virgolette, la natura mobile e aperta dell'istituzione per come abbiamo provato a pensarla. La metto lì perché è una cosa che, insomma, su cui mi pongo la domanda ma non ho una risposta ovviamente. Io aggiungo solo che Badiou doveva inviarci un articolo. Era è vero mi sono dimenticato su se stesso mi sono dimenticato su se stesso però poi ha avuto dei proveri ha avuto dei gravi problemi e per cui non è riuscito a inviarcelo però era una mancanza evidente che però è stato fuori dal nostro è stato un evento fuori dal nostro controllo completamente fuori dal nostro controllo ma di un altro nel numero nuovo non ci sarà allora leggiamo la domanda che ha articolato il dubbio in chat come può essere letto e interpretato l'evento della pandemia alla luce di una prospettiva biopolitica cosa ci fa dire se in sombra di dubbio che la scienza di questi due anni non sia già politicizzata risponde Fabio no no Andrea per quanto riguarda la politizzazione della scienza è una cosa nota da tempo cioè il problema non è questo perché non c'è una scienza non politicizzata anche quella contraria a quella politicizzata è politicizzata e allora di cosa stiamo discutendo no allora il problema è che non lo so forse quando si abusa un po' troppo non è quello che fate voi anzi questo è quello che voi criticate giustamente ma spesso se si abusa un po' troppo della nozione di evento si finisce poi per vedere eventi ovunque che non cambiano niente questo è il problema ok allora un evento per essere tale dovrebbe avere la capacità che però non è una capacità solo sua chiariamoci perché appunto l'evento del non umano oppure anche dell'umano nelle forme appunto dell'insorgenza del conflitto non prevedibile eccetera è quello di riuscire a cambiare le strutture epistemologiche con cui si legge il presente se l'evento questa cosa non riesce a farla forse vuol dire che è un eventino cioè nel senso che è qualcosa che è accaduto e nessuno lo mette in dubbio ma forse non è qualcosa di così davvero importante ma neanche questa è la cosa fondamentale dal mio punto di vista la cosa fondamentale è che l'evento deve essere riconosciuto in quanto evento per poter portare una modifica finché lo si continua a vedere come è un'eccezione una deviazione una casualità qualcosa che è andato storto può succedere non è mai un evento a questo punto di vista anche il discorso di forma rivoluzione sì d'accordo va benissimo ma il problema è che una riforma non è mai un evento in questo senso anche se può cambiare radicalmente la vita di molte persone e a volte in meglio a volte anche in peggio questo appunto dipende però non modifica le strutture del sapere o dei saperi della conoscenza della scienza dell'episteme ditela come come volete insomma mentre mi pare che un tentativo o tentativi di pensare l'evento quello di Baggiù ad esempio ma non è l'unico tentassero in qualche maniera questo tipo di presa no ora forse però ripeto questa era la mia provocazione e conclusione forzata è che da tutto questo discorso sull'evento forse impariamo che come possiamo dire che l'evento non è una cosa così importante ripeto al di là della questione pandemica cioè l'evento può essere può essere a parte il fatto che l'evento ripeto mi scuso anche con chi ascolta ma non è possibile entrare in troppi dettagli è chiaro che potrebbe essere pensato come qualcosa che accade puntualmente cioè appunto come una rottura più o meno immediata ma un evento può anche essere un processo un cattivo maestro qualche anno fa appunto diceva che il comunismo si dà nella transizione cioè la rivoluzione si dà nella transizione quindi il fatto che la rivoluzione sia un evento nel senso non lo so della rivoluzione francese piuttosto che della rivoluzione americana ad esempio o magari della rivoluzione russa che peraltro di processualità ne ha avuto anch'essa abbastanza forse ci fa rivedere proprio la categoria stessa di evento ma con essa forse anche quella appunto del rapporto continuità discontinuità cioè quello che deve accadere è che noi dobbiamo essere in un certo senso anzi neanche costretti perché non solo è brutto ma è sbagliato noi non dobbiamo poter usare più le strutture epistemiche che stiamo usando quando accade questo siamo di fronte a qualcosa di decisivo finché noi per per ignavia per per stupidità per per convenienza per interesse per tutto quello che volete continuiamo ad andare avanti con le stesse strutture epistemiche vuol dire che non lo stiamo vedendo se anche qualcosa è accaduto è come se non ci fosse è come possiamo dire il moscerino che ti dà fastidio vabbè succede lui vola mi va nell'occhio me lo tolgo e vado avanti ok allora io penso che questa noi possiamo prendere la pandemia adesso perché c'è nel testo ovviamente e perché effettivamente questi due ultimi due anni non abbiamo fatto altro che parlare di questo ed essere assorbiti anche da questo ora oggi magari potremo parlare della guerra ora la guerra è da sempre una delle forme mettiamo perché non tutte le guerre sono state negli eventi però la guerra è una delle forme dell'evento a volte ti impedisce di andare avanti e tu sei costretto ad ammettere che non puoi più andare avanti e quindi devi cambiare d'accordo questo accade anche per le strutture biologiche in alcuni casi va bene quindi voglio dire siamo mettiamola così proprio scusate provo a dire in un altro modo con quali criteri di tipo epistemologico noi riconosciamo che un evento è un evento come faccio a dire che siamo di fronte a un evento perché possiamo essere di fronte a una sciagura a una disgrazia a una grande rottura di balle a mille cose che però non necessariamente sono eventi e a volte cose magari minuscole possono poi dimostrarsi degli eventi molto più importanti di cose apparentemente grandi no? questa guerra sta rimettendo in discussione gli assetti tutti dicono di sì vediamo per il momento non pare anzi pare che tutti abbiano una grandissima nostalgia di quello che c'era prima ben sapendo che ovviamente non si potrà mai riproporre nella stessa maniera no? ma c'hanno tutti una voglia di guerra fredda qua in cima che quella di Gorbaccio fin confronto era niente poi certo che la guerra fredda non torna con quelle modalità no? ma la geopolitica la divisione del mondo in zone di influenza adesso però non sono più due sono tre o forse quattro forse cinque eccetera eccetera sì sono cambiamenti ma in genere il modo in cui si parla di evento è qualcosa che si connette con qualcosa appunto di dirombente potrei potrei usando dei termini molto classici mi scuserete potrei dire che l'evento è la figura della necessità cioè ciò a cui tu non ti puoi opporre con quello che hai già anche con quello che sei già ok? devi cambiare allora il discorso di Andrea e del volume della ricerca che state facendo che è molto interessante di una appunto istituzione o di un processo istituzionale di un istituirsi che sia aperto all'evento è una bella domanda mi piace molto ma la trovo difficilissima perché come è stato notato evento scusatemi l'istituzione ha una una sua processualità iterativa cioè cerca necessariamente lo diceva bene appunto di costruire una normalità poi la normalità non è una cosa che si ripete sempre identica a se stessa è fatta di tanti processi mica di una cosa sola è complessa va bene la normalità ok? è appunto ma allora come fa la norma ad essere aperta all'evento è un problema anche giuridico ad esempio che credo che i giuristi affrontino da molto tempo peraltro per cui forse un'interlocuzione con loro potrebbe anche essere utile da questo punto di vista giurista accade una cosa che è fuori dalle norme la prima cosa che fa è vedere se puoi condurla ad una qualche norma che già c'è questa è la prima cosa che fanno tutti poi se proprio non è possibile eccolo lì dov'è lo scoglio lo scoglio è che sei di fronte a qualcosa che non puoi più fare non è che scegli tu mi spiace capisco che perdiamo di soggettività e di soggettivazione ma forse acquistiamo qualcosa cioè acquistiamo la consapevolezza che lì siamo di fronte davvero a qualcosa che ci costringe a cambiare e allora dobbiamo cominciare ad inventare a pensare a sperimentare insomma a fare tutte quelle cose che normalmente facciamo anche un po' a casaccio ma che poi magari prima o poi qualcosa di buono tirano fuori scusate basta non parlo più quella cosa di dentro il mitico quella cosa che non può essere decompreso all'interno e che costringe a cambiare poi che cos'è il costituente che fa una nuova costituzione questa è una di quelle cose certo certo perché come diceva Andrea giustamente il costituente implica un'idea ben precisa abbastanza precisa di dove andare a parare a volte effettivamente noi non siamo di fronte a dei processi che si presentano con tutta questa chiarezza ma che però hanno una loro necessità e sono processi in genere complicati da gestire che si gestiscono non nel corso di come dire non solo di una riunione ma neanche di un anno ma in genere richiedono tempi lunghissimi per essere affrontati e a meno in parte risolvi posso provare a rispondere a titolo ovviamente personale perché poi nell'almanacco ognuno porta la sua prospettiva per cui abbiamo tante idee diverse per quanto mi riguarda ma credo questo di poterlo un po' allargare al gruppo non si tratta tanto di pensare a delle istituzioni che siano delle istituzioni buone per cui delle istituzioni che per loro natura per come le possiamo progettare siano aperte all'evento no c'è il conflitto cioè si tratta di pensare come il conflitto debba agire nelle istituzioni e modificarle non tanto poi io non ho questo afflato normativo tutta una cosa di metodo quello che penso io per cui non si tratta tanto appunto di pensare delle istituzioni democratiche che siano aperte alle istanze e continuino a modellarsi su un sociale che ha delle istanze no si tratta di uscire da questa bipolarità si tratta di uscire anche dalla bipolarità del costituente e dell'istituito e si tratta di una polemica anche molto situata molto contingente secondo me che è quella che ha iniziato ha ha iniziato questo percorso dell'armaco dal mio punto di vista da quello di Francesco che oggi non c'è con cui discutevamo all'inizio cioè di una politica che almeno di una certa teoria politica che aspettava l'evento che si costruiva a partire da un evento puro che doveva dare la direzione ora questo è il 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 costituente domani ne discuteremo credo è l'idea l'idea da cui uscire e lì dentro ci sta il conflitto per cui non tanto appunto io capisco benissimo le vostre le vostre i vostri dubbi a riguardo ma appunto si tratta di inserirci il conflitto di avere dei conflitti che siano conflitti istituenti che non abbiano paura di dettare una norma che sia contingente che sia criticabile che sia infondata ma che la che la la mettano in campo questo è secondo me il il nucleo teorico che che stiamo cercando almeno che sto cercando di di sciogliere e non tanto appunto forse è una prospettiva che è anche presente questa in alcuni dei però insomma io ci ci innesterei il conflitto lì dentro per vedere cos'è un'istituzione non voglio parlarne perché poi dicono che parlo solo di conflitto e beh insomma poi quello di cui parliamo tu lo conosci molto bene per cui quelle sono le istituzioni che ci interessano le istituzioni aperte all'evento sono costrette ad aprirsi all'evento certo perché altrimenti muoiono e altrimenti vengono sostituite da altri istituzioni non so se no beh adesso appunto poi si sommano costantemente i piani del discorso speriamo la necessità infatti di mangiare a un certo punto però su questo no se vuoi rigirando un po' la frittata che tanto sempre la stessa è però il tema che secondo me anche emerge è anche l'altra domanda ha senso porci il problema di immaginare e come dire costruire delle istituzioni aperte al conflitto o ha senso progettare il conflitto in vista delle istituzioni esistenti cioè torniamo sul tema riforme e rivoluzione in qualche modo no? cioè il tema è guardo alle istituzioni che ho di fronte col piano di costruire un conflitto capace di metterne in luce le contraddizioni i punti di frattura le problematicità e quindi poi inevitabilmente cioè in forza di necessità aprire alla necessità di un'altra istituzione che non conosco prima di agire quel tipo di conflitto i cionpi non lo sapevano che volevano andare a Santa Maria Novella a discutere dei fatti loro loro volevano cioè che cancellassero i debiti gli altri gli hanno detto di no e loro hanno detto ok allora vediamo intanto che cosa possiamo fare no? adesso l'hanno detto meglio di così però e quindi il tema è anche in questo senso poi condivido la cosa di dire è inutile è inutile no però spostiamo l'attenzione da attendiamo l'evento messianicamente e invece lo progettiamo e su questo anche Mattia mi prende giro per la faccia sul 2016 ma lì perché ognuno di noi ha delle cose su cui si scalda io sono d'accordo che l'emersione di un movimento femminista internazionale sia anche un imprevisto ma per chi è un imprevisto chi sta guardando quello come un evento inedito e nuovo perché le persone adesso coinvolte nei movimenti femministi che hanno preparato quella dimensione non sto facendo una questione teleologica che ci siamo messe abbiamo organizzato una cosa e poi è riuscita non è quello il punto però partivano da una necessità di trovarsi di fronte a delle istituzioni a delle norme a un sistema che con cui già avevano uno scontro in atto poi è inedito come dire che tu dici una cosa e trovi intorno gli altri che dicono anch'io non ce l'avevo pensato ma in effetti questa norma sta stretta anche a me però non è del tutto un evento quella dimensione perché perché non ha la forza pura della necessità se non nelle biografie di chi trovava delle dimensioni conflittuali dentro una norma già esistente questo mi sembra un altro dei nodi dove situiamo lo sguardo chi siamo noi che guardiamo non siamo dei soggetti neutri che guardano le istituzioni dall'alto e che dicono ora forse ci vorrebbe un bel evento che scompagina le cose siamo soggetti fortemente situati a cui le norme dicono cose profondamente diverse e anche qui secondo me poi nel volume c'è l'interesse di dirci ok e come costruiamo dei soggetti collettivi perché di fronte anche all'evento che poteva essere e che in qualche modo non è stato della pandemia poi ha detto cose diverse a soggettività diverse a posizioni specifiche dentro cui la pandemia ci colpiva e o a un certo punto troviamo il modo di dirci che c'è una dimensione di ricomposizione di un soggetto collettivo che guarda a quell'evento se no davvero diventa un po' un po' difficile per cui anche questa dimensione secondo me è interessante l'altra questione che emergeva adesso con forza è la questione della durata che è un altro grossissimo problema la prassi costituente ovviamente si pone il problema della durata faccio una costituzione per l'eternità potenzialmente non è che dico la costituzione la cambio perché poi certamente incontra delle cose che la cambiano però l'obiettivo è che sia sempre per sempre e però chi si pone il problema della durata in che modo ovviamente ha una percezione di nuovo dei soggetti che è differente quindi secondo me ecco ritorno sulle stesse cose però penso che anche antropologicamente abbiamo qualche problema con gli eventi cioè no abbiamo ogni tanto che qualcosa resti un po' un po' uguale un po' uguale che lo capiamo ci rilassiamo un attimo perché se no un evento ogni giorno è un altro che lo toglie no no infatti cioè e poi un evento ogni giorno di nuovo davvero è la giustificazione dell'esistente perché un evento ogni giorno allora ogni evento è compatibile con delle possibili istituzioni che immaginiamo e che parlano a qualcuno e no allora dico ah stai ancora parlando? no basta ah ok riprenderò anche la domanda che veniva fatta al computer e che mi è scomparso però quindi un po' me la ricordo a memoria però è di nuovo scomparsa e non vorrei che mai ce ne fosse un'altra e che ce la perdesse non ce n'è ok allora la scienza è politica quanto meno dalla pompa di Bain poi anche prima allora me la ricordo comunque più o meno che è stata un'invenzione politica ma è tutto consapevole ah però ha aggiunto un commento allora io parto dal commento di Sara online che mi permettono anche di parlare anche di altri saggi che sono presenti nel volume lei chiede l'evento della pandemia da una prospettiva biopolitica a cui sono dedicati svariati saggi nella prima sezione a me ovviamente non è possibile ora riassumerli tutti però qualche spunto giusto per anche invogliare a comprare il libro e a leggerlo insomma Thomas Lemke in un saggio in cui parla della nozione di milieu non facilmente traducibile lui dedica intere pagine proprio a giocare sul doppio significato di milieu come ambiente e milieu come mezzo però sostanzialmente colloca la biopolitica nell'ambito della circolazione e intitola il suo saggio governare il milieu per dire che alla luce della pandemia la circolazione che è da intendersi come potremmo dire logistica quindi strade ponti piazze e tutto ciò che può comporre una logistica globale ma anche i regolamenti e le istituzioni che tracciano la circolazione è là dove si concentrano gli eventi l'aleatorio e governare il milieu governare l'aleatorio per governare le relazioni tra umano e non umano e lui nel milieu situa ha una prospettiva biopolitica e lui la chiama biopolitica più che umana ed è una parte su cui ci concentriamo sostanzialmente quindi trasferire l'idea della politica e di una politica che prevenga la malattia il contagio o tutto quanto vogliamo nei rapporti tra umano e non umano cosa vuol dire proteggerci proteggere l'intero ambiente nel rapporto tra umano e non umano Roberto Esposito ovviamente nel suo saggio affronta la questione della biopolitica in un modo diverso riprende il famoso paradigma immunitario su cui aveva scritto e lavorato parecchi anni fa e sostanzialmente dice sinteticamente che nella esigenza immunitaria della vita delle relazioni della vita complessa nel fatto che la vita debba essere sempre protetta per essere affermata per esprimersi debba sempre essere immunizzata dalla malattia lì e dice la vita quella che c'è quella che esiste è sempre in quanto protetta istituita e non è mai nuda non è mai pura puro vitale ma ha sempre bisogno per essere tale per essere vita cioè per durare di immunità e quindi di forme che la proteggano e la difendano ma che al tempo stesso non debbano essere eccessive per non mummificarla per non renderla rigida ma per mantenerla appunto vitale Vanessa Lem invece parla di biopolitica ancora una volta in una chiave ecologista criticando l'idea secondo cui la pandemia avrebbe rimesso al centro le grandi capacità dell'umano del razionale della ragione dell'affrontarle ma mettendo in luce invece la convivenza diciamo tra l'uomo e le altre specie questo carattere multispecie della vita per cui insomma giusto qualche spunto per dire che la pandemia da una prospettiva biopolitica in questo volume viene declinata e da prospettive anche irriducibile le une alle altre alcune sono anche polemiche con Esposito la scienza loro hanno già risposto siamo tutti ampiamente d'accordo è sempre politica e lo dice anche Esposito proprio nel rimarcare che anche la dimensione scientifica dell'immunità è una pratica politica tutta il portato scientifico tecnico biomedico nel fatto più specifico è evidentemente una questione politica che interroga le istituzioni politiche la stessa parola istituzione comprende anche quelle scientifiche ed epistemiche quando io prima in maniera rapida e forse un po' superficiale dicevo politicizzazione del del dibattito scientifico intendevo proprio esplicitare questa dimensione politica del del tema scientifico e far sì che ci sia una diffusione un'apertura no? si diceva tra le altre cose tra le potenzialità della pandemia potremmo dire anche l'esigenza di una pubblicizzazione e non una tecnicizzazione della dimensione scientifica quindi era esplicitare un qualcosa che già che già c'è sempre in chat un commento che va poi al di là dice l'evento sia in sede il divino l'istituzione non potrebbe anticiparlo è esattamente quello che nel volume critichiamo cioè non pensare l'evento come Dio non pensare l'evento come Gesù Cristo ma pensare l'evento come che pure è stato un evento mica da poco però che poi determina l'attesa del ritorno del Messia e si attende sino a che il paradiso non verrà in terra a suon di scismi viene ricordato di fronte a me di molteplici conflitti a proposito a parte le battute è rompere questa concezione che possiamo definire religiosa ma che nella storia della filosofia è una dignità che è fortissima veniva detto Heidegger il più grande filosofo del novecento il più influente ancora oggi ed è probabilmente probabilmente così storicizzare l'evento storicizzarlo anche per aprirne la dimensione della trasformazione di come della sua figura trasformativa e non divinizzarlo in questo senso non può essere interamente anticipato altrimenti perderebbe senso parlare di evento ma può esserci un prepararsi all'evento un costruire le condizioni dell'evento e qua anche Carlotta ha preso il mio esempio e per certi versi lo ha completato in maniera fondamentale perché prima l'ho utilizzato come esempio un po' rapidamente e poi chi l'ha vista la preparazione la costruzione l'ha fatta praticata giustamente la la segnale la tematizza e torna proprio bene quell'esempio con la con la tua giunta nel senso che tanto almeno a mio avviso che poi ovviamente se nel caso specifico da maschio completamente estraneo a quel tipo di lotta posso averla vissuta ovviamente dall'esterno però al di là di questo del punto di vista situato di da che punto di vista parliamo che sarebbe tutto un ragionamento io dico e anche tralasciando quell'esempio c'è la costruzione che sono gruppi che sono forze che sono collettivi che sono a volte istituzioni che costruiscono i processi organizzativi i processi politici che determinano delle condizioni dei soggetti e che in un certo momento fanno un salto e in un certo momento portano sulla scena pubblica una forza nuova che dirompe in quel momento rispetto a quei processi che lo avevano preceduto e che avevano posto delle condizioni e che in quella manifestazione in tutti i sensi sia politica che ontologica assumono un implemento di forza un supplemento quindi costruire le condizioni perché un certo tipo di evento come quello menzionato possa esistere e al tempo stesso leggere un salto che nell'esempio specifico lo usavo per parlare l'emergenza sulla scena di una forza pubblica che sposta il dibattito rispetto al giorno prima e crea un dibattito che il giorno prima non era così a proposito di io credo che dopo quel giorno e in tutte le conseguenze e gli effetti di quel giorno alcune strutture sono cambiate alcune strutture epistemiche alcune strutture del dibattito anche mediatico politico giornalistico siano cambiate quindi qualcosa di evento ce l'ha avuto con tutti i suoi processi che l'hanno preceduto ne parliamo ne parliamo poi al bar e per per rispondere anche ad Elia anche se anche se appunto ne si discute da anni per cui non ne veniamo fuori non ne veniamo fuori stasera è il conflitto tra istituzioni è è un po' una parte fondamentale delle istituzioni del conflitto questo lo scrive lo scrive Marchesi a chiare lettere nel nel suo saggio il conflitto tra istituzioni il conflitto tra ordini cioè in cui ci si contende di ordinare organizzare in maniera diversa le una certa società ad esempio una certa un certo territorio io sono d'accordo che ci sia un conflitto tra istituzioni e che in un certo senso ogni conflitto sia anche un conflitto tra istituzioni nel senso più lato del concetto di istituzione però mi cioè penso che non dovremmo concepire il lato di ordine che fa un'istituzione nei termini della norma questo mi ha mi ha lasciato un po' in disaccordo nel senso che eh la norma e e il normativismo che richiama sempre al fatto che c'è una norma che ti dice come cambiare la norma e eh questa cosa qua ne parlavamo negli almanacchi precedenti a mio avviso rompe un po' un aspetto eh aperto al conflitto nel senso di permeabile dal conflitto della dell'istituzione a cui guardiamo che non concepirei se anche la vogliamo pensare come una forma di ordine che non sia però schiacciata sull'elemento normativo eh ad esempio e anche qui eh citare esempi un po' così fuori dal cappello magari anche rendergli poco onore però tutto il processo cileno a me mi ha sempre fatto molto riflettere perché cioè non so se eh posso chiamare l'evento però penso che là ha modificato completamente le percezioni di tutto ciò che accade che aveva la forma insurrezionale aveva le forme della grande rottura ha posto una grande rottura e eh si è aperto un processo costituente che ha riscritto la costituzione che ha imposto nuovi valori e nuove forme che non erano previste a nessuna norma e che ha dovuto inventare nuove norme per cui eh diciamo che l'ordine dell'istituzione è anche un costante non normativo ciò che non è normato tutti quei valori femministi ecologisti che non erano normati che non avevano alcuna voce in quella costituzione e che trovavano voce da fuori dalla rivolta quindi eh poi anche là il conflitto tra istituzioni in Cile insomma non penso che però tutto quel corpo collettivo organizzato che anche là erano strutture collettivi partiti storici a loro modo organizzazioni anche dimensioni istituzionali hanno saputo anche andare oltre la norma e a riaprire un processo costituente e eh l'ultimissima cosa è eh su questa cosa che è tornata più volte da Fabio e cioè che cosa è un evento che è è un bel modo per per chiudere per chiudere una discussione come dire vabbè quindi per sono due ore che parlate senza sapere di cosa parlate no eh anche qui per rendere merito ad alcune cose contenute nel saggio nelle volume il saggio di Emanuele Renaud è utile anche come eh stile definitorio di provare a dare delle delle bussole intorno a cui come concepiamo un evento e lui ad esempio già distingue eh tra una concezione che chiama triviale e una concezione enfatica dell'evento e cioè o l'evento come tutto ciò che accade mh il mondo è fatto di eventi contro le filosofie delle sostanze contro le filosofie della permanenza eh il mondo è fatto di eventi e lui dice no concezione un po' più enfatica dell'evento eh l'evento è ciò che eh rappresenta un momento di biforcazione tutto sommato simile alle cose che stavi dicendo tu eh un momento di critico dei processi e delle strutture epistemiche politiche rappresentative che lo precedono che lo obbliga delle biforcazioni queste biforcazioni possono essere delle svolte e quindi che si devia ma si continua e quindi che c'è un elemento di crisi e di ripresa o delle eh momenti di interruzione eh quindi già ha già distinto ciò che non è evento cioè non tutto ciò che accade ma ha dato un certo significato all'evento e eh ad esempio voi cioè secondo me non è possibile e ma penso che siamo anche d'accordo non vedere gli elementi di discontinuità segnati dalla pandemia e eh quegli elementi che hanno costretto anche i quadri istituzionali a far fronte a nuove spinte a nuove domande domande eh sulla eh sullo Stato sulla presenza eh sulla ruolo del welfare poi non ci sono state risposte all'altezza magari delle domande poste alla pandemia e non ci sono stati neanche movimenti e conflitti che hanno saputo generarle però banalità è chiaro che ad esempio tutto il processo del recovery plan su un piano europeo poneva un elemento di modificazione di eh trasformazione di nuovo corso di certe forme di governo che se opportunamente battuto da conflitti che venivano tanto menzionati da movimenti aprirebbe un campo di contesa nuovo e inedito rispetto invece ai quindici anni precedenti di austerity questo eh valutazioni anche politiche in un certo senso però mi sembra che la pancia anche l'esperienza pandemica e la risposta politica alla pandemia abbia generato degli elementi di discontinuità e eh delle novità tali da poter qualificarla come evento altre cose non non sarebbero potute essere definite come tali se non producevano una modificazione comunque eh io chiuderei se siamo abbastanza convinti di andarcene e vi ringrazio che l'evento è finito e ringraziamo la Casa della Cultura per la pazienza l'ospitalità e l'assistenza tecnica e l'assistenza e l'assistenza